Negli scatti di tuo fratello che vediamo in esposizione domina sicuramente il tema naturale, come le hai scelte? Le foto le ho scelte con grande fatica scavando negli archivi di mio fratello, trovando foto che non avevo neanche visto mai io e le ho scelte indirizzandole tutte verso la natura per questo primo anno, perché spero che ogni anno si possa fare di nuovo quindi mantenendo come tema principale i paesaggi, i mare, gli animali. Qual è lo scopo di questa mostra fotografica? Lo scopo principale di questa mostra fotografica è sicuramente fare un bellissimo regalo a mio fratello e in secondo luogo abbiamo pensato che avrebbe avuto ancora più senso mettere in vendita le foto e ricavato darlo a un'associazione piccolina che ha veramente bisogno e che fa una cosa che Andrea davvero amava ossia pulire le spiagge, il mare e cose di questo tipo. Cosa significa comunque per voi essere stati scelti come associazione a cui andranno i ricavi di questa mostra? Oltre che essere super grati alla famiglia, nonché onorati, noi abbiamo scoperto di avere un'affinità molto grande con questo ragazzo, appunto Andrea Zanaboni che è l'artista di questa mostra. Abbiamo scoperto di avere una grandissima affinità con il suo lavoro, con l'obiettivo del suo tempo libero. Lui dedicava moltissimo alla protezione del mare, alla pulizia, al probabilmente educare anche i suoi amici come facciamo noi alla tutela e al rispetto dell'ambiente. È stato difficile organizzare un evento in questo momento storico? Sì, allora la mia idea in realtà è partita quando ancora non era a questo livello nuovamente la pandemia, eccetera. Però sì, è stato molto difficile, sono contenta che riusciamo ad essere qua oggi, speriamo di arrivare alla fine e speriamo che l'anno prossimo possa essere ancora più grande e più bello senza il Covid.